Da che si è scassal? Eccoci qui, un ciao da Rossella Brescia, un ciao da Max Fagani e un ciao da Barticolucci. E queste sono tutte le sfide che dovranno affrontare i nostri concorrenti. Sì, una delle tante sfide che vedrete piano piano nel corso di questa puntata, alcune potremmo esserci, altre forse no, chi lo sa? Chi lo sa? Comunque sono esilaranti tutte. Ah sì. Ad esempio c'è questo, il chatto con l'asta che a me piace tantissimo. Lo spaghetton. E poi cosa c'è? E poi ci sono le pietre, quelle che ingannevoli. E poi cosa c'è? E poi, un attimo. Sono impaziente, Rossella, cosa c'è? Eh, c'è la tavola da sempre. E poi cosa c'è? E poi cosa c'è? E poi cosa c'è? C'è il ponte basculante. Sì, molto basculante. E poi Sina! Cosa? In generale, dove è? Eh, adesso arri... Eccolo, è lì! Generale, è lì! Questa filmpatica che è che ci porteremo per tutte le puntate. Sì, e ci sono anche i 100 concorrenti, eh. Eccoli qua. Eccoli qua che dovranno affrontare queste belle provette. detto lo spaghettone da Rossella questo è lo spaghettone direttamente che corre questo è bello mi piace quella balenotta lì c'è il quake c'è anche il ponte basculante e questo è un gioco nuovo poi ve lo spieghiamo questo è uno che l'ha preso bene però l'eliminazione il gioco finale invece in cui i concorrenti potrebbero arrivare insomma al Monteperni ma prima iniziamo dal primo gioco appunto vai generale lì primo gioco matchmaker eh lo sapevo Rossella eccolo qui allora in questo gioco i 100 concorrenti devono scegliere una forma e inserirla nei corrispondenti buchi blu veramente che bel gioco veramente scusate ragazzi allora le forme sono 100 però solo 82 combaciano con i buchi blu quindi in 18 rimangono lì con il loro oggettino che non può entrare da nessuna parte esatto guardate lì ma come si fa è difficile dai è un gioco come dire di fortuna sì 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 noi l'abbiamo sintetizzato dura due giorni e mezzo sì infatti le immagini sono state velocizzate appunto sì 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 e chiaramente chi riesce ad inserire la forma giù nella forma giusta passa alla fase successiva bravo questo ha perso tutto le speranze anche si raccoglie forme degli altri non ha capito nulla del gioco guarda il generale è esaurito lo vedo eh lo vedo già io non lo vedo scusa sì l'ho visto è lì come non lo vedi scusa eccolo che corre guarda per andare verso dove eh deve cercare il buco giusto così non vale no non va non è che puoi fare un rettangolo dentro un triangolo eh non è che il generale lì ha fischiato e purtroppo questi concorrenti sono esclusi dal proseguo della gara eh sì chi è stato il più ridicolo di un po' di ridicolo c'è ben poco però vediamo ah lui che cerca di inserire la forma di farlo entrare a tutti i costi allora prossimo gioco Sleiped Disc ho detto bene brava bravissima bravissima anche se avessi detto male ti avremmo detto l'avrei detto bene dillo in giapponese dillo in giapponese Sleiped Disc esatto brava allora ecco a questo gioco prendono parte tutti i concorrenti che indossano un elemento con un bersaglio attaccato sopra l'avete visto? ma sei sicura? ma sei sicura? ma questo chi è ragazzi? scusate allora la squadra delle guardie dello smeraldo usa dei potenti getti d'acqua per sparare sui concorrenti mentre tentano di arrampicarsi su una ripida salita che è questa hai visto? tu continua a spiegare che io e Barti cercano di capire chi era quello là che ha fatto la capriola vestito di bianco beh era un simpaticone sicuramente un amico di lì ecco ma vedi che c'è vedi che c'è invece è importante sì allora chiaramente se il bersaglio si rompe il concorrente esce dal gioco esatto ricordiamo che i concorrenti hanno uno zenetto con all'interno un discerbante sì non è vero non è un discerbante oppure un piccolo frigo portatile magari per lo sforzo ma sì oppure c'hanno la merenda non lo so qualcosa avranno forse anche la merenda hai ragione o un seccatutto per le piante infatti guardate che intorno a loro la vegetazione è completamente anomala ma non credetegli oh ma chi era quella galinella là sotto? vedi vedi che rimane questo dubbio scusa dai non fare così il più ridicolo chi sarà stato? secondo me lui capiamo cosa stia facendo cosa sta facendo? sta facendo una verticale vuole fare la verticale un simpatico muriste diciamo e adesso passiamo al gioco che mi piace un sacco perché ci sono Zigo e Zago che aspettano i concorrenti di Honeycomb ovvero il labirinto l'alveare 76 ancora in gara allora i nostri concorrenti dovranno cercare di trovare la porta giusta cioè quella che non porta nell'acqua però è solo una quella giusta tutte le altre ti portano nello stagno e poi ci sono Zigo e Zago gli amici di Takeshi che ti fanno molto male ma sono tre ragazzi sono diventati tre che bello sono diventati tre ora non lo si mangia è sempre più difficile però ma guarda ma che sei uscito cosa è uscito? aveva una maglietta trasparente che è? cosa hai detto? ha detto ce la faccio no vabbè mi voleva rispondere però poi è tornato dentro vai corri sono tre sono tre sono tre è difficile ragazzi ma cosa sta facendo? ha cercato lo sfondamento non lo so ma si fissa bravo ha fatto bene perché sì meglio l'acqua che le manate di fango va bene lui ecco lui è pronto col pigiama vai entra si è appena svegliato tra l'altro eh beh devo dire che con tre non è facile adesso gli aspetto è una bella colazione l'ha preso l'ha preso con la maglietta è Zugo Zugo Zago e Zugo è Zugo Zugo lo si riconosce dalle macchie replay è lui è lui è lui vai ragazzi c'è un nero che fuoriesce dallo stagno che nelle altre puntate non c'era e beh ha furia di giocare è l'acqua sempre più torpida eh sì certo molto torpida allora facci vedere un po' vai bravo ma cosa fa ma così spragagni la porta ma piano non c'è più bisogno di parole bastano i sottotitoli ma scusa ma dove va ma cosa fa vuol fare il gecko vuole rientrare da sopra ma no ma che c'è la famata la che si intaggia ce l'ha fatta no 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 sei un grande sei un grande dico Zugo Zugo è questo eh ma Zugo ah beh Zugo è uscito dai è abbastanza arrabbiato Zugo no 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 io lui lo promuovo a proprio tipo no ma che cattivo Zugo vuol dire che nonostante tutto l'hanno eliminato non ci posso credere beh il replay ti ridicolo chi è vogliamo ancora guardalo guardalo ma che tuffo che fa io invece gli avrei dato un penno speciale e tre guardate il nero che tre guarda quello è il vestito è il vestito sempre pulse apart ah beh questo è uno dei nostri preferiti è il solito il gioco del salto con l'asta diciamo sì però l'asta è alta è del bersaglio che è basso in questo caso bisogna finire esattamente dalla piattaforma grande a quella più piccola ma lui è carico e lui è carico e lui ce la fa ecco bene guarda che gli mancava pochissimo due metri due metri no gli mancava poco ricordiamo che l'ideale sarebbe puntare l'asta proprio in mezzo e finirci possibilmente ha vibrato l'asta ragazzi sì ma adesso ha anche la sua testa però dai che volo vai vai ma cosa c'hanno fanno Giacomo Giacomo quelle mani lì è il riso il riso che dà poche energie no ma il riso ti dà energia dai vai dai carico dai uno due tre vai bravo bravo ma da manuale questo ragazzi sì 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 lui ha capito tutto vai lasciare la mano sopra e con l'altra rimanere in alto mi seguirà il suo da manuale infatti vediamo il replay perché merita la capriola sul tappeto che peccato che peccato la capocciata anche sul tappeto la capocciata esatto allora vai vai gioia vai sì vai oddio dove va oh gioia poetica sta caduta devo dire sì molto e questo ha deciso di infangarsi ancora prima di giocare ma no perché voleva la barba a tutti i costi ah per quello lo fa più uomo dici vai è anche un po' più scemo perché non gli è servito non gli è servito vabbè dai però simpatico sì 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 pronto eccolo via aveva voglia di farsi un bel bagno brava pure io ho colto questa sua volontà sì sì lui è già in previsione con la maschera sì perché già prevede ma anche il boccaglio sì non si sa mai meglio partire da casa per me vedi ha fatto benissimo sì dai vai a fare un po' di snorkeling l'ha persa vedi ma cosa fa ha perso la maschera non è possibile e si è infuriato ma cosa fa vai signorina bella sì sì vai dritta dentro vai dritta dentro bravo beh ce ne sono diversi qui beh io ho dovuto scegliere questo qui questo qua perché è il numero uno perché è il numero uno hai ragione eccolo lì il prossimo gioco Skippy Stones oh my god che in giapponese che in giapponese Skippy Stones Skippy Stones allora ogni concorrente deve correre dall'altra parte di questa bella piscina eh sì sì servendosi di pietre sì sì soprattutto dei piedi ecco però alcune pietre Obama alcune pietre sono finte non sono fissate come potete vedere quindi fanno perdere l'equilibrio in questo caso anche un menisco esatto ahia no ma questo ha spostato la pietra ferma ragazzi ci sono diverse tecniche per affrontare questo gioco una di queste questa non è quella adatta ma ci vuole un sacco di coraggio per fare la tecnica veloce come questa signorina è vero è vero uno dei primi muscolosi lo sai eccolo lì il modello eccolo più bello della Giappone niente ah niente da fare niente da fare io ci avevo scommesso su di lui niente si fa anche un bel tuffo vedi tanto ti c'è guarda che lui vai vai dai vai vai carico 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 ma vieni beh guarda che falcata ragazzi ma vieni eccezionale bravo eccolo lì lui seguirà l'esempio col suo bel pigiamino dai ah peccato eh accidenti un caffè magari prima ha perso il grip in curva lui eh chi il grip cos'è il grip è l'aderenza ma scusa ma perché sono così ignorante aia problema questo è facile da capire tre pietre già dentro lei si è ingrippata invece attenzione fa molta paura lei si fa molta paura ma poi mi deve spiegare il collante ma perché ha messo il collante ha spostato la pietra di due metri ragazzi sì ma quella rigida però quella buona quella rigida però simpatica sì sì mi piace molto è più ridicola forse lei beh è lei no no è lui no è lui eh beh sì effettivamente dai che cagno che ha dato vabbè allora cosa ci aspetta nelle prossime prove vabbè il salto col surf sì sì allora poi il solito ponticello ecco 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 e poi e poi è finita la prima parte vabbè allora eccola lì faccio rimango qui bene eccolo qui il nostro wow oh che paura che ho io vado a casa no 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 rimani qua va bene e qui le guardie non c'entrano eh eccolo qua l'unico gioco col surf ma non ci sono le onde non ci sono le onde ci sta la tavola da surf c'è sì sì le balene anche da saltare poi una volta in piedi su questa tavolozza bisogna saltare la balena non come ha fatto questo vabbè però scusa il primo ecco però lui è contento comunque sì sì lui è contentissimo vai dai lui è un po' timido nell'approccio ma guarda che la timidezza funziona vedi così piano piano chi va piano passano e vai vai un bel salto lontano dai va beh fa niente chiudiamo un occhio via salta sulla piattaforma questo è semplice dai non mi cascare su questa ti prego prendilo vai bravo salta la ecco io adesso mi devi spiegare come ha fatto a cadere l'emozione Rossella l'emozione è che passando ha visto la ragazza si è distratta beh bella poi questa mi fa molta paura ragazzi un carpiato ha fatto ma chi è la cagnotto ma ha fatto due giri ma cosa ha fatto ha paura anche lì di questo qua si si pure noi pure noi c'è la mattenza dai no ecco ha divento la balena la balena si vai vai devo dire che questo in teoria non è difficile ma la prima no dai nostri concorrenti sono forse i sausi dalle prove precedenti chi lo sa beh vabbè vai vale not e che classe vabbè lui è un atleta e adesso dai la piattaforma guarda bello sicuro di sé adesso la difficoltà è prendere al volo dai vai giusto dai l'ultimo ma è notta ottimo no vabbè ma ragazzi ma era arrivato al finale no ha perso l'equilibrio si è emozionato anche lui è andato dentro bene ma non si può fare qualcosa per questo signore ma lo eliminiamo è per il suo bene però allora questa mi sento che ce la fa dice Rossella il solito intuito io e Max ci affidiamo al tuo intuito ha sfragagnato la balena però c'è ancora vai ecco la piattaforma si questa la prende non so se al volo ma la prende ecco qui dai ti prego non me la rompere ecco l'orecchio e ce l'ha fatta brava bravissima ha diventato una squamezza ma no ma no ha preso di testa la bocca della balena ma che vergogna questa ho paura ragazzi ecco devi andare dall'altra parte questa si fa male cosa fa cosa fa beh replay merita di rischio veritatissimo brava 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 a farci ridere questa oh 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 allora vai quelli carichi così solitamente cadono subito beh lui invece no lui no lui no tra un po' tra un po' fra un fa la cascata la fa vai vai sulla tettacorma prendi il surf al volo è troppo ma lui è un guardone visto come ha guardato è certo sì e poi non è anche una donna è un uomo travestito da donna esatto eccola qui pronta dai che la vedo bella carica eh tantissima è carica è di peso però dai 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 ma no ma ha distrutto la balena che frontale meno male che è di plastica la balena perché se no veramente si è ribaltata sì vai sì ma cosa ha messo il coso di CSI sì si trae l'imbianchino del CSI lui vai pronto sì bravo ecco dai concentrati ti prego concentrati oppa vai dai non distrarti dai 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 ottimo bravo 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 peccato ma non poteva aspettare un secondo di più no non poteva buttare vabbè è un istintivo ottimo ottimo no spiegati ottimo sì ma c'è bisogno di fare quel cinema aspetta vai rimani in equilibrio bravo no vabbè non distrarti no eh gioca sporto no però vedi che carino si è buttato lo stesso in acqua nonostante avesse preso la roccia perché gli piace l'acqua che mi sta lì certo come si fa a rivitare un bagno la più ridicola lei beh sì beh beh lei è stato un peso morto ridicolissima bridge ball prossimo gioco allora questo è bello eh sì i concorrenti devono restare in equilibrio su un ponte di legno molto lungo e molto stretto e traballante soprattutto devono prima prendere la palla d'oro lanciata dal generale lì e poi evitare i colpi di cannone degli scagnozzi del conte Takeshi il pallone sì sì Max prego no scusami no ma il pallone ce l'ha già in mano sì no ma dovrei ricordare che poi le palle lanciate dagli scagnozzi del generale lì sono di piombo beh certo ma no quindi ecco in faccia l'ha avuto lui infatti guardate che si dimena il tetto da sale è andato lui eh però ragazzi come soffre combatte è veramente un samurai non sta capendo niente è completamente intontito giusto rimani di schiena così almeno giusto bravo bravissimo secondo me si è abbattuto perché ormai non aveva più coscienza di niente questa signorina la vedo maluccio sì l'approccio non è dei migliori appunto la vedo maluccia maluccio e e e ed ancora è all'inizio del percorso e non ha preso neanche la palla ancora quella d'oro del generale quella del generale la prende e cade vai no aia eh va bene eh ti conviene buttarti guarda fai prima ah no gliela puoi rimandare ah gliela rimanda vedi ah no senta me buttati subito possiamo notare la violenza dei colpi era destinato dai lui ha un composite di tutte vecchie no scusate non vedevo una tuta con le ali da pipistrello dal 70 perché è un uomo missile lui esatto vedi come fa giù come un rasso eh beh c'ha anche le ali quindi non si fa niente anche lui è incredulo il generale lì non può credere ai suoi occhi eh no vai crediamo in te sì ah guarda voi dovete spiegarmi questa usanza di mettere il costume sulla tuta perché fa fashion ah fashion fa fashion maxi allora la prossima volta anch'io e te sì sì perché non venite così anche voi due attenzione attenzione ha preso la palla d'oro del generale lì poi ahia 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 che cosa l'ha spostato di un metro eh va bene l'ha spostato di un metro risali risali bravo fagliela vedere c'è la farta incredibile oh adesso devi tornare in piedi eh perché no io sarei rimasta seduta bravo bravo yeah buona gana vai vediamo se tutta questa fatica avrà avuto un senso per lui secondo me sì vediamo secondo me no ma non vorrei tirargli i piedi però no non fare il gufetto dai ecco ecco però resiste ancora guarda che questo è un pellicano cos'ha al posto dei piedi non lo so si tiene con tutti gli artigli sta diventando parte integrante del ponte ah niente vabbè eh vabbè però c'è stato un grande sì sì è lei molto anni anni 50 ma scusa ma avrà una vita che misura 60 cioè 50 su un corpo da 1 ai 10 ha un suestino da vespa questa qui eh vai mi piace quella cosa la Rambo che ha sul ginocchio sul ginocchio no quella si è fatta male nella prova precedente ah è un cerotto ha la protesi attaccata vai tesorin vai aia girati lei è una combattiva aia no è una combattiva me lo sento sì vedi si protegge brava si protegge fa finta di niente intanto aia che dolore brava brava dai ah ma è un po' è fantastico eh sì eh è quarta quarta amici amici quarta quarta amici amici oh niente da fare accidenti era un po' matrix anche con quella eh ridono quelli accidenti e lei vendicherà l'onore femminile perduto lei scusa c'ha un cerotto sulla pancia cos'è? un fiocco la prova di prima ah è la prova di prima si postumi della prova di prima no secondo me un fiocchetto porta fortuna dici? sì dai 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 siamo con te ah dai no eh ma che cattivi gli scagnozzi dai che ce la fai vai dai che ce la fai che botte dai che ce la fai allora copriti il viso dai brava quasi a presagio Rossella no guardi pallonati in viso ah annaggia vabbè dai pazienza beh questa prova di prima d'ora solo uno riuscite a superare eh sì di quelle che abbiamo visto sì chi è stato raggiù ridicolo o ridicolo? vediamo un po' e lui 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 guarda che botta ed è rimasto lì come il generale esatto vai il meglio della puntata slapete meglio del peggio ovviamente cioè questi qui hanno ma guarda che classe la classe è acqua in questo caso esatto acqua solta vai benghete ottimo di testa e via pure tu e via e lei è la nostra preferita ma è un valser questo bellissimo bravi bravi ottimo replay la scelta era difficile e quindi puntatone sì 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 accidenti quanti ne saranno rimasti per l'ultimo gioco? secondo me pochi però vedremo abbottiamo un'idea secondo me un 4 secondo me un 6 6 max io proprio vorrei di aspettare di vedere quanti ne escono dalla buca finale showdown oh guarda che bella inquadratura 3 4 5 ripresa sotterranea 5 stavamo uscire lì allora 2 3 4 4 come si dice 5 in francese? ma no ma questo è milanese e vai sono pronti a guiritissimi contro gli scagnozzi di Takeshi vai devono espugnare il castello un castello che contiene lo ricordiamo un forziere del valore di un milione di yen un milione di yen un milione di yen 8 mila euro l'ordine solo 8 mila euro ma solo ma si chiede tutta questa manfrina per 8 mila euro sono tanti ma ci eravamo noi facciamo una colletta no 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 eccolo lì il Takeshi con l'autista ma eccolo lo ricordiamo allora cosa devono fare prima di tutto devono cercare di non farsi colpire i nostri 5 finalisti direte useranno dei laggi laser per l'alta tecnologia no non è normale pistoline e fuggilini ad acqua ad acqua ad acqua lilla hanno sprecato 2 lire per la scenografia l'acqua è diventata lilla pensate si hanno messo un po' di colorante per renderlo più vivace però per adesso vanno abbastanza bene non vedo versagli bucati non vedo gente che si diverte soprattutto sono tutti via mutoniti girano intorno signorina basta è finito perché dobbiamo divertirci noi da casa a vedere quello che combina allora ecco Takeshi con la sua macchinona e soprattutto con quel grosso idrante che sta facendo danni tra i nostri concorrenti si e non ha vinto nessuno ragazzi ho già visto questo è stato pure colpito quindi niente ne è rimasto solo uno ne è rimasto solo uno eccolo eccolo va bene alla prossima allora ciao da Rossella Brescia Max Fagani e Barti Colucci ciao 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 Grazie a tutti.